Salute, salute a tutti, bentornati ad Ippocrate, il diritto alla salute. Noi quest'oggi ci occupiamo dell'allarme per il sistema sanitario nazionale. I dati sono noti da tempo, ma adesso il Governo lancia l'allarme sulla sostenibilità del nostro sistema sanitario. Quali soluzioni? Poi parleremo del mal di schiena, dal disco alle neuropatie, dai dolori muscolari alla postura, le cause e i rimedi contro il mal di schiena. Col freddo e l'umidità aumentano i sintomi dolorosi delle malattie reumatiche e poi gli esercizi di logopedia per superare i blocchi dei bambini, dalla rmoscia agli altri difetti di pronuncia. E per gli animali cercheremo di capire quanto anche per loro sia importante l'omeopatia per affrontare intolleranze alimentari ed allergie. Per la verità è da qualche anno che importanti istituti come Meridiano Sanità, il Censis, fanno semplicemente i conti e ci avvisano da tempo che così come è strutturato il nostro sistema sanitario nazionale, invecchiamento della popolazione ed altri fattori, semplicemente non è sostenibile. E per la verità è da qualche anno che anche noi qui ad Ippocrate diamo spazio a queste analisi che si baggassano su calcoli matematici. Tutti però adesso a scoprire che la sanità in Italia, soprattutto nei prossimi anni, costerà sempre di più e probabilmente così come non ce la potremo permettere. Benvenuta all'onorevole Melania Riccioli, deputato del PDL. Onorevole benvenuta. Benvenuto al senatore Lionello Cosentino del PD, benvenuto anche a lei senatore. Allora, prima di iniziare a capire da voi perché oggi esce fuori questo allarme da parte del Presidente del Consiglio, vediamo insieme i numeri della nostra sanità. Vedete dal cartello, ci costa 106 miliardi per quest'anno, 36 miliardi sono quelli che tiriamo noi fuori privatamente dalle nostre tasche per curarci quando non troviamo un posto letto a disposizione, la TAC ce la prenotano dopo sette mesi e quant'altro. Tra Berlusconi e Monti ci sono stati tagli previsti fino al 2015 per 30 miliardi. I posti letto soltanto in quest'anno sono stati tagliati 7389 e lo vedete. Dal 2000 sono 72 mila quelli che si sono persi. Onorevole Riccioli, perché adesso questo allarme? Perché il Presidente Monti ha visto i conti e ha lanciato giustamente un allarme. Se non è una persona che parla a caso, quindi se ha espresso preoccupazioni sulla sostenibilità futura del sistema nazionale sanitario, ha i suoi buoni motivi. Il costo della sanità che è regionale incide sul budget regionale di circa dal 60% all'80% a seconda delle varie regioni più o meno virtuose. Molte di queste sono commissariate. Io per esempio che sono stata eletta nel Lazio, nel Lazio è già da qualche anno in atto un duro piano di rientro sulla sanità regionale. Già aveva iniziato la Presidente Polverini dimezzando addirittura il debito che aveva trovato di un miliardo e mezzo. Però ci sono costi proprio non sostenibili. Che non sono sostenibili. Senatore Cosentino, c'è chi ha paventato dietro alle parole di Monti la possibilità di una privatizzazione spinta? Per la verità Monti ha smentito che il suo desiderio sia quello di arrivare a un sistema sanitario privatizzato. Peraltro l'Italia l'ha già conosciuto ai tempi delle mutue e non era un granché e anche allora i debiti erano molto forti. Vorrei anche ricordare che i sistemi sanitari privatizzati costano di più di quelli pubblici. Negli Stati Uniti la spessa pro capite per cittadino è molto più alta che non in Francia o in Germania o in Inghilterra dove c'è il più antico sistema sanitario pubblico che funziona ancora in modo eccellente. Perché i sistemi sanitari pubblici riescono a dare migliore qualità spendendo di meno. Naturalmente il problema sul futuro ci sarà perché ci sarà una parte della popolazione più anziana che avrà naturalmente bisogno di più assistenza. Però ad oggi in realtà io vorrei ricordare che l'Italia è uno dei paesi europei che spende meno in proporzione al proprio prodotto interno all'ordine sanità. Che non ha avuto in questi anni un incremento della spesa. Si può dire la sanità fuori controllo. No, questo non è vero. Anzi, la spesa in quasi tutte le regioni è stata molto contenuta e anche nelle regioni del Mezzogiorno dove avevamo maggiori problemi i piani di rientro hanno imposto un controllo maggiore sulla spesa. Quindi è un ragionamento sul futuro ma che non nasce da una situazione di squilibrio dei conti di oggi. Noi spendiamo, questi sono i costi privati della sanità, i ticket sulle ricette, i ticket sulla diagnostica e sulle visite. Poi spendiamo per la specialistica, dal dentista al ginecologo, al dermatologo, all'oculista, all'ortopedico e per la riabilitazione. Sono tutti i settori, tranne forse il dentista, che lo Stato prevede, il sistema sanitario nazionale ce li ha sulla carta nel suo interno. E però, onorevole Rizzoli, quando una donna, soprattutto magari incinta, vuole fare un'ecografia e le danno l'appuntamento a sei mesi... Sicuramente è inaccettabile, però qualcosa bisognerà fare, tipo il pagamento del ticket o altre forme di finanziamento. Perché è anche inaccettabile che, per esempio, se io mi recono in un pronto soccorso, pago zero come l'immigrato marocchino che, come me, paga le tasse in Italia, ma evidentemente ha un reddito differente. Cioè, in un momento di crisi economica così grave, di deficit della sanità così pesante, tutti dobbiamo fare uno sforzo. Il Presidente del Consiglio a non stravolgere il nostro sistema sanitario, che è considerato uno dei migliori al mondo. È anche vero che noi abbiamo un record di longevità che è secondo dopo il Giappone. Per fortuna, anche grazie, nonostante i pochi investimenti che sono stati fatti questi anni nella ricerca. Le vie d'uscita che sia il Presidente del Consiglio, ma anche gli addetti ai lavori, indicano per puntellare il sistema sanitario nazionale. Partecipazione in base al reddito, quindi chi più ha più deve pagare. La centrale unica di acquisto, per quel che riguarda i farmaci e tutti i presidi ospedalieri. L'accorpamento delle ASL, l'accorpamento degli ospedali e l'implementazione dei servizi sul territorio. Senatore Cosentino, noi qui in Italia abbiamo 18 TAC ogni 100.000 abitanti. In Francia ce ne sono 7, in Inghilterra ce ne sono 5. Dunque, ora, non è che la sanità italiana, poi con tutte le setac a disposizione, garantisca l'immediatezza quando uno ne ha bisogno? Gli sprechi di cui parlava l'onorevole. Ci sono sprechi e c'è corruzione. Su questo elenco lei è d'accordo? Sono tutti punti giusti, tutti e 5, ne aggiungerei un sesto. In Italia c'è bisogno di un sistema di valutazione della qualità dei percorsi di cura. Pensi, e le faccio solo un esempio, che nella città di Roma ci sono 23 reparti di emodinamica, ma la percentuale di casi di infarto ricoverati nei pronto soccorso della città trattati con angioplastica è poco superiore al 50%, a fronte dell'80% di Bologna. E quanto costa mantenere questi reparti di altissima specializzazione? A Bologna con l'80% di casi trattati hanno 3 reparti, noi a Roma 23 reparti, il 50%. L'ultima preoccupazione di queste ore è l'ospedale Gemelli, il Policlinico Gemelli. Molti pensano nell'ospedale del Papa. Il Policlinico Gemelli ricovera 100.000 persone all'anno, vengono molti pure da fuori regione, ha un bacino d'utenza sterminato tutto il centro-sud, 2 milioni di analisi ogni anno, eccetera. 27.000 prestazioni al giorno. In una situazione finanziaria veramente grave. Tant'è che il Policlinico Gemelli ha annunciato che erogheranno soltanto le prestazioni di urgenza tra il 3 e il 6 dicembre. La domanda è secca. Non possiamo permetterci di essere senza il Policlinico Gemelli. Senza la domanda mi ha risposto il Senatore Cosentino. Il Gemelli l'ha aiutato, anche perché in questo momento ha dirigenti in camba che stanno riorganizzando e riducendo gli sprechi e quindi stanno facendo un ottimo lavoro. Grazie, grazie a tutti e due.